Comunque signori sono passato per, ieri mi avete detto che insomma avete qualcosa di nuovo ecco da farci vedere Sì, c'è essere la mese quella che ti avrei detto che ti farei perdere, se prendere una sostanza di quelle ti farei perdere 24 ore L'ultime 24 ore, dimenticare come un vuoto di memoria Se venirei assunta doppia dose allora perdere l'ultime 40 attore all'incirca Di provocare gravi disorientamenti, sentire come se ti avessero dato un colpo di incudine in testa Guarda, ho preso quella che è praticamente scaduta, quella vecchia Questi effetti lo danno le sostanze che vengono utilizzate per la produzione o è proprio lei che dà questo effetto? No, questo è un mix di varie tipi di sostanze Cavolo, ma non era scaduta? Ma che cazzo fare, fratello? Ma quella è scaduta Perché non si doveva mangiare? Ma, no, fratello ma che cazzo avere fatto? Porca droga E niente No, l'ha rifatto di nuovo Grazie a me, l'ha rifatto Ma buona col cazzo Grazie a me Subito in gola, subito Ma porca puttana, fatelo vomitare ragazzi Non era da mangiare questa cosa Fermati, Garzia Vabbè, 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 vabbè Vabbè, vabbè, vabbè Sputala Non ci voglio credere, non ci voglio Fermati, Garzia, fermatelo, fermatelo, fermatelo Ho messo il dito in gola Aguantatelo voi Perché non mi hai detto che non era da mangiare? Fermati, fermati Non pensavo fosse da assumere per via orale Vabbè, stringi la bocca, non riesco a affilare il dito Sputa Sputalo Sputa Oh, non riesco, è già andato Puttana Garzia, aspettate, venire Garzia, stai fermo Si fermi Annontanatevi Prendile in braccio Prendile in braccio Annontanatevi Fatelo grazie dove stai andando Non stavate di cosa? Dove stai andando? Una volta che entrare nel sangue non riuscire neanche più a sentire nulla Ma buonk Ma che è successo? E adesso sta russando Sta russando Sta russando, assurdo No, mi so che fra poco svenire Di sentireci sentire Voglio dirlo Garzia Ma per quanto tempo Sarà male Ma ho la ruolo diversamente Non me ne frega un cazzo Ma va tra l'altra volta Perché sono svenuto Sono una roba diversa Lo faccio durare tipo una mezzoletta questo effetto qua Però l'effetto lo scelgo io Anche perché la vine è boh, rega Sta roba che dice lui Non lo specifico tutto Un attimo Un attimo Chi siete? Garzia, ma che cazzo Chi sono questi qua? Chi sono? Ragazzi che ci stavano ospitando in casa loro Cazzo è questa gente, Martínez Stami lontano Padre, padre, padre Stami lontano Scendi da questa macchina o ti sparo Cazzo Non mi fotterai pezzo di merda Sono poliziotto, io strozzo Provavamo le armi Nell'altro ufficio Salve colleghi Collega 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 posso parlare con lei? È nuovo, è arrivato da poco lei No, no, no Agente esperto coordinatore Garzia Sto cercando mezzogiorno Dove sta? Sto cercando Mezzogiorno Non ne ho idea sinceramente Eva invece Eva l'ha vista Vorrei chiedere qualcun altro Collega Agente esperto coordinatore Garzia Sto cercando mezzogiorno Ma ti hanno assunto da poco anche a te Un sacco di volti nuovi infatti Non vi conosco Alvaro Sto cercando mezzogiorno Non l'ho visto Ma dove li trovo Vabbè vado dentro Dove stanno tutti? Chiedete di Eva per favore Di Dave Speed Gentilmente in radio Di chi? Dave Speed e Eva Sono due altri in grado Dave Speed o Eva Qualcuno risponde? È urgente cazzo Dave Speed urgente Eva urgente Rispondete in radio Dica che c'è l'agente esperto coordinatore Garzia Che li sta cercando C'è l'agente esperto coordinatore Garzia Che vi cerca Gold? Avete visto Gold per caso? Quello che ha il blu? No No Non c'è Ma porca puttana Ma sono tutti fuori servizio oggi? Agente esperto coordinatore Garzia Sto cercando mezzogiorno È arrivato? Ma non credo Sono appena arrivato Eh cazzo Eva invece l'ha vista in giro Dave Speed Sono appena arrivato Gli dico Eh cazzo William Pronto? Soltano Soltano Buonasera Dove sei? Chi sei? Sono Bambias Bambias Ma perché mi arrivate per fare spiriti telefonici oggi? Ho visto come sono meno o meno alzato di grado Come? Sono Sono con mezzogiorno Sei con mezzogiorno? Sono col comandante mezzogiorno Sì ma sto smetallando pesante qui a Bambias Con mezzogiorno in che senso? Sei con Mauro? Dov'è? Sì Ma perché chi cazzo sei tu? Perché sei con lui? Perché hai il mio numero? Sono il tuo ministro degli esteri Non ti ricordi? Ma perché oggi mi piate per il culo? Ma chi cazzo sei? Sei uno di quei pezzi di merda che ho restato qualche giorno fa? Non è vero No Ascolta mi Garcia Ci incontriamo lo sceriffato con mezzogiorno Mauro a mezzogiorno Sì io non so chi sia tu Non ti conosco sinceramente Quindi non vengo Potrebbe essere un'immoscata Non è un'immoscata Vieni alla centrale di polizia Sono qui testa di cazzo Alla centrale di polizia quale? Sì vieni qui Alla centrale di polizia L'unica che c'è in città Vieni qui dai Va bene arriviamo Ok perfetto Oggi mi stanno facendo tutti i scherzi telefonici Mi chiamano padre Sultano Padre Sfortuni Ma non mi chiama nessuno Signore Papà dove si trova? Papà un altro Ma mi potete dire chi cazzo siete? Signore lei è il nostro sultano Lei è il padrone di Los Gordos e di Paleto Vabbè dai Giovane Per favore dai Te lo dico Signore Per fare una denuncia E mi cambia anch'io allora Mi potete dare i numerini ragazzi? Gioca 99 Ok Posso così? Sì sì Perfetto grazie giovane Ok Faccio io fare il capopattuglia Faccio lei giovane Faccio lei che sono un po' Guardi lei Guardi lei Perfetto andiamo In Kedam andiamo? Lo so che tu non puoi Vabbè Kedam andiamo? Non lo so Non sei di tu Non hai capito Mi sono messo una cosa incredibile prima E infatti Per cui lo stavo cercando mezzo Cioè mi sono Mi hanno perso rapito E mi sono ritrovato in un accampamento indiano Con dei tipi Minchia Con dei fucili in mano Infatti sono scappato Mi sentite ragazzi? Ciao Garcia in pattuglia con me Sta dicendo che vorrebbe parlare con mezzogiorno Ho speed Giuro Perché mi sta raccontando Che l'hanno rapito Proprio i ragazzi Che stavano parlando di AC Surreal Giuro Ho Garcia in pattuglia qui con me Immaginate minchia la gente Che sa chi sono Io di Garcia E sentono sta roba Grazie Dennis per i 35 Ti ringrazio bro Sì E dove andiamo giovane? C'è qualche rapinetta? Non c'è niente Niente Sono scappato Sono scappato? Pezzi di merda Converge all'ultimo 10-31 Cosa? Da Rolando Marchetti Sei andato? Quello che sta al porto Non lo conosco È un tipo matto Cazzo Fermo a questo Fermo a questo Dov'è? Questo? Questo Sia fermo No Non posso usare lo sniper Ma perché sta scherzo? Che state combinando? Siamo abbastanza Scusi Non posso camminare Non ho capito Datti una calmata Giovanotto Io sono capissimo Non mi sembri calmissimo Sono semplicemente calmato Ti ricordo che stai parlando con due agenti Sì ok Ma tu c'hai una cazzo di pistola nelle mani Come a cazzo faccio? Dove la devo tenere? Nel culo la pistola? Prova la tieni tu subito? Eh non la so Se c'è In bocca Ti devo smaccare la testa Questo è convinto Convinto Faccio venire qui 40 agenti Ti massacro È chiaro Può essere Questo è vero Vabbè ma io Vabbè Io la regola della chiacchiera Ok? Silenzio Dicevamo? Agente Stia calmo con il mio fratello No io mi calmo quando voglio io Ok Allora Faccio venire qui mezzogiorno Con tutta la squadra Ma fai venire chi cazzo ti pare? Ma lega Questi due mi sa che non hanno capito bene Con chi stanno parlando Sì però Sapi che faccio una chiamata al signor V E vi faccio prendere a calcio i culi Non so chi è Non so chi è signor V Non sai chi è signor V È quello che ti dà da mangiare Stronzo Venom ti dice qualcosa Che cazzo è? Fratello conosci qualcuno Qualcuno da signor V? Venom ti dice qualcosa per caso No continuo a non conoscere Non sai chi è Venom Te lo giuro Guarda che io so più cose di voi Di quante voi ne possiate sapere Di voi stessi è chiaro Eh io ti sto dicendo Conosco adesso il signor Venom Non so che Di chi stai parlando Scusami Diciamo che è quello che ti dà da mangiare Ok forse sei così sotto Che non sai nemmeno come si chiama Ok questa persona È quello che ti sfama Lo credo Però va bene Quindi State tranquilli ragazzi Che Diciamo che Io sono più della vostra parte Rispetto al mio collega Anche se può non sembrare Quindi fate i bravi Sono amico Sono riuscito a fare il cattivo Capito? Che cazzo Capitano Capitano Speed Si Gli ha detto Speed L'ha detto in radio Non ci sei in radio Eh no Non mi fenterà in radio Ah Ma chi gliel'ha detto L'ha detto in radio Ma Davy Speed Il capitano Gli ho detto di si Ah ok perfetto Si calmi Le ricordo che sono l'agente esperto coordinatore Gli ho detto di si